Fu inaugurato dal taglio del nastro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprendo a gennaio a Vallefoglia la prima delle 50 settimane da Capitale della Cultura dedicate ad ognuno dei 50 comuni provinciali nel progetto di Pesero 2024. Dieci mesi dopo non si è affievolito il fervore culturale attorno al Teatro Giovanni Santi di Bottega, che ha continuato ad essere catalizzatore di tante iniziative e che oggi ha visto presentare il rush finale di questo 2024 nelle proposte pensate dal Comune e coordinate della Filarmonica Gioacchino Rossini. Ci auguriamo che una struttura di questo genere diventi un vero e proprio motore culturale dell'intera vallata. La sua vocazione è questa. È iniziato a gennaio con una settimana bellissima di uno spettacolo al giorno, tutti pieni, perché la popolazione sentiva il bisogno di un luogo di questo genere. Dove fare cultura, dove fruire della cultura, ma anche dove proporre cultura. Infatti tutte le proposte di questa rassegna e anche delle prossime provengono dal territorio. Questa è la cosa importante. Il teatro può fare emozionare, il teatro fa divertire, il teatro fa riflettere, per cui anche questa programmazione che è stata presentata in questi primi due mesi ha tutte queste caratteristiche. Quindi si passerà il periodo, le programmazioni cinematografiche, che comunque sono spaccati di uno sulla violenza, sulla giornata internazionale, sulla violenza delle donne. L'altro è proprio uno speccato del territorio. Quindi il teatro è veramente fondamentale per un territorio. Abbraccia tutti, quindi tutte le generazioni, quindi dai bambini agli anziani a tutte le persone, a tutti i generi, a tutte l'età. Sono temi importanti che vedranno il coinvolgimento delle scuole, dei ragazzi al mattino, quindi approfondimento sul Volponi, a cento anni della sua nascita, dello scrittore. Poi il tema della linea gotica, della storia, quindi del nostro territorio, della guerra, quota 204 il progetto. Dopodiché ci saranno anche altre iniziative la sera, compagnie dialettali. Ringraziamo il Cavalcavia di Pesaro, che farà due serate, sabato e domenica, 23-24 novembre. Ci saranno poi dei musical, una tre giorni, giovedì, sabato, 12-13-14 dicembre. Si chiuderà il programma con delle iniziative rivolte al Natale, con collaborazioni storiche del nostro territorio. Il centro danza performance di Elisa Vergoni, che si sta fermando prepotentemente, anche con la collaborazione con Sanremo, annunciata pochi giorni fa, e anche con il corpo bandistico Giovanni Santi di Vallefoglia, che chiuderà il 22 dicembre con il classico concerto di Natale. Le attività, non solo di questi due mesi, ma anche le attività culturali e teatrali dei prossimi mesi fino al prossimo estate. Stiamo già pensando gennaio, febbraio, marzo, aprile, i prossimi mesi. Abbiamo la fortuna di avere due teatri. Stiamo ragionando insieme alla Proloco, alla quale abbiamo affidato il Teatro Branca, con 150 posti, a Sant'Angelo di Vallefoglia, la programmazione dei due teatri, che consente alla città di Vallefoglia, in città industriale, di fare un salto culturale enorme.